Emanuele Rauco e Riccardo Iannacone in un podcast di troppo and the Oscar goes to Riccardo Iannacone ah si prendo l'Oscar ringrazio ovviamente i miei genitori ringrazio il mio agente ringrazio chiaramente Dio e niente è un'emozione unica vincere il premio Oscar per il mio nuovo romanzo perché non so se tu lo sai ma nella famosa serie tv Boggia Corsman lui riceve il Golden Globe per la sua autobiografia che non c'entra assolutamente niente con i film a tal proposito visto che diciamo sempre consigli 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 recuperate Boggia Corsman su Netflix è una serie animata in sei stagioni su un cavallo che sarebbe un attore fallito ubriaco e depresso che veramente ne combina di tutti i colori una serie che tondola tra la comedy e la dramedy quindi insomma tanta tanta roba Boggia Corsman si molto bella Boggia Corsman però tu devi stare attento quando fai il discorso di ringraziamento perché può arrivare un Will Smith a darti un destro fortissimo ma se fosse così rimarrei nella storia perché penso che Chris Rock che non ce lo ricordava più nessuno a questo punto della carriera se lo ricorderanno tutti in realtà pare che noi in Europa non ce lo ricordiamo perché in America pare che sia ancora relativamente famoso ecco mi dai uno spunto che poi tratteremo meglio nella puntata per dire una cosa che sento nel profondo del mio cuore a tal punto che ho raccattato anche degli articoli interessanti che voglio leggerti quantomeno ti leggo degli sprazzi ti leggerò degli sprazzi per farti capire quello che secondo me è il grande problema degli Oscar e degli americani in generale e in questo caso nella sezione cinema Hollywood e tu sai bene che io posso anche sbilanciarmi in queste considerazioni perché ribadisco tu mi conosci molto bene io sono un amante degli Stati Uniti un amante dello sport dello sport statunitense quindi football basket poi anche dei grandi tennisti americani del cinema americano quindi della società americana io mi interesso anche di politica americana ecco credo che il problema degli Stati Uniti è che pensino un pochino troppo ma tantino che il mondo gira intorno a loro e invece io non credo che sia così quindi ne parleremo io mi ricordo la prima scena di The Newsroom la serie di Aaron Sorkin in cui c'è questo giornalista che è interpretato da Jeff Daniels che sta a una specie di convegno con degli studenti me la ricordo molto bene e una studentessa gli chiede ah ma pensa che l'America sia il più grande paese del mondo come fare per tornare al più grande paese del mondo e lui gli dice guardate che l'America non è il più grande paese del mondo da boh non so 50, 60, 70 anni cioè che cosa ci stiamo raccontando noi sono tutti convinti, gli americani che gli americani siano al centro del mondo per esempio tu appunto ti appassioni di sport quando una squadra di basket o di football mi hai anticipato campioni del mondo sono campioni del mondo esatto è come se il Real o il Barcellona vincessero la Liga e dicessero ah siamo campioni del mondo campioni del mondo esatto addirittura nel baseball si chiamano le World Series cioè le serie del mondo ma quando come hai detto bene tu quando si vince il Super Bowl NFL o il titolo NBA campioni del mondo quindi World Champions poi è vero che probabilmente non ci sono ci sono poche le squadre di foot di baseball più forti di quelle americane di basket sono pochissime anche di football forse nessuna però però è quel riverbero che secondo me anche un po' meno sì anche un po' meno è quel riverbero che si può trovare tranquillamente nel cinema americano certo certo sì sì assolutamente va bene dai partiamo allora forza Oscar come vogliamo organizzarsi cioè facciamo per film per premi come facciamo per premi io però devo dire una cosa che accoglierà il tuo beneplacito quindi il tuo il tuo ok generale scusate se mi invento le parole però è una cosa che mi piaceva se Emanuele se lo ricorda già dai tempi di Popcorn da Tiffany come disse una volta Jim Carrey in un MTV Movie Awards vedete invento anche delle parole mie quindi citando Jim che tra l'altro dovrebbe ritirarsi dalle scene cinematografiche ha fatto questo annuncio qualche giorno fa io prima di partire pochi giorni si sono ritirati Jim Carrey Bruce Willis Bruce Willis a cui facciamo un grande in bocca al lupo e un abbraccio virtuale perché perché Bruce Willis è un'icona appunto esclamativo ma scherziamo no no Die Hard Die Hard basterebbe basterebbe Die Hard ma poi la morte di Fabella la morte di Fabella e tanta tanta altra roba e tanta altra roba e e Alain Delon ha come dire in qualche modo ufficializzato il fatto che riporrerà al suicidio assistito perché ma sta male e non ce la fa più quindi in pochi giorni queste tre cose che insomma non anzi forse delle tre quella di Jim Carrey è la migliore è una scelta è una scelta sua poi magari in coda prima dei consigli leggiamo tutta la filmografia di Bruce Willis perché secondo me se la merita questa 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 perla se la merita questo spazio dedicato a lui perché è stato veramente uno dei più grandi attori della sua generazione soprattutto per certi generi cinematografici credo che il film per cui credo che il film per cui verrà ricordato di più insieme a Die Hard sia il sesto senso però vabbè poi magari gli dedichiamo uno spazio uno spazzetto prima dei premi ti volevo dire che io non l'ho vista la cerimonia ma figurati se io l'ho vista troppo tardi troppo tardi io alle 10 già sto con l'occhio calante e sdraiato sul letto allora io faccio mea culpa ho seguito il red carpet e me ne sono ampiamente pentito perché è stata qualcosa di veramente in vere e conda però ho recuperato la cerimonia il giorno dopo e niente è stata in vere e conda pure la cerimonia tempi terribili tempi terribili conduzione terribile una conduzione diciamolo terribile poi ma i conduttori erano conduttori multipli come l'anno scorso o c'era un credo credo fossero credo fossero tre conduttrici ok personalmente a me non piace Amy Schumer la trovo proprio fastidiosa come comicità ma questo è un mio parere personale chiaramente non mi sono piaciute neanche le reunion no per osannare certi film del passato con dei teatrini artificiosi persino quello di Pulp Fiction l'ho trovato veramente brutto con Uma Thurman e John Travolta che fanno finta essenzialmente di ballare la gag di Will Smith deprecabile ma poi ne parleremo meglio dopo insomma poi hanno pure tagliato i premi tecnici alcune che è una cosa senza senso hanno detto le tagliamo questa cosa per fare una cerimonia più breve più fluida no ha fatto schifo comunque quindi potevate tranquillamente tenerli e poi li hanno tagliati però poi hanno mandato la differita cioè che che senso ha veramente terribile tra l'altro tra i premi tecnici tecnici tra virgolette meritevoli di taglio c'erano la fotografia il montaggio cioè le due cose su cui sostanzialmente un film si basa no addirittura e credo che anche su questo sarai stra d'accordo il montaggio e la fotografia sono l'appoggio cardine alla regia senza fotografia e senza montaggio non c'è il film a tal punto che si dice che il fotografo o meglio il direttore della fotografia sia il regista quasi la spalla il bastone su cui si regge il regista essenzialmente quello che vedi lo vedi grazie al direttore della fotografia il fatto che il film ti racconti una cosa durante il film non sulla sceneggiatura e grazie al fatto che il montatore le mette insieme i pezzi ma non lo so a tal punto che il montatore può decidere il ritmo il pace il taglio artistico stilistico il montatore forse è la figura più importante di tutte io mia moglie Emiliana che anche con lei che nei video dell'ultimo mese mi sta aiutando a curare la parte tecnica visiva grafica lei fa anche la montatrice è stata montatrice lo fa e lei una volta ha salvato in un certo senso un film sostanzialmente decidendo che queste cose non funzionano per esempio gli attori non mi convincono facciamolo muto e quindi ha praticamente tolto le parti ha tolto un sacco di dialoghi e ha lasciato gli attori come corpi però non i loro dialoghi e il film è diventato un altro film molto più bello tra l'altro da quando Emiliana ti cura da quando Emiliana ti cura l'aspetto tecnico si vede la differenza tra i video prima e i video dopo quindi tra il prima e il dopo sostanzialmente fotografia perché quella che mi dice questa inquadratura questo colore è montaggio e mi hai detto niente però si vede che agli Oscar il premio più importante del cinema del mondo questa cosa non sia chiara probabilmente ma secondo me dicono fotografia ma che è fotografia delle vacanze montaggio ma che è mobile dell'Ikea esatto è molto probabile che sia così quindi io butto la provocazione massima prima di andare a leggere i premiati ovvero io credo che gli Oscar siano dentro un declino stiano proprio dentro un declino quasi irreversibile a parte che gli ascolti si sono un pochino rialzati rispetto alla fase pandemica americana ma sono molto 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 meno rispetto al 2018 e al 2017 detto ciò è proprio il contenuto è lo spettacolo lo show che lascia desiderare e secondo me rischiano di non riprendersi più questo però è legato anche secondo me al fatto che l'intero modo di pensare il cinema sia in transizione cioè il fatto che come dire i tre o quattro grandi filmoni per il cinema che c'erano quest'anno uno solo è stato riconosciuto e premiato cioè Dune ed ha avuto comunque un certo successo gli altri sono stati o successi molto piccoli tipo Nicoli Spizza che è un successino di micchia o due grandi flop come West Story e Nightmare Allie e invece i film più premiati più quantomeno percepiti come favoriti erano Coda e Il Potere del Rey che erano cose dello streaming quindi non avere più l'idea che il cinema sia una cosa per il grande schermo per quel tipo di evento ma una cosa che sia a cento di cui mi guardo un film porta anche il fatto che alla gente interessino meno gli Oscar e che come dire alle produzioni stesse interessino meno quel tipo di film sì sì sono sono d'accordo io ribadisco credo che ci sia una crisi molto profonda per quanto riguarda per quanto riguarda l'industria hollywoodiana e quindi gli Oscar che sono lo specchio che riflette l'immagine di Hollywood in tutto il mondo hai fatto una hai fatto un riassunto secondo me chiarissimo evidente lampante hai usato poche parole ma sono quelle è la verità dei fatti e quindi cito anche Canova che durante la diretta diceva diceva appunto secondo me è grave che un film come Dune che trionfa in tutte le categorie tecniche che sono fondamentali per un film non riesca come in passato altri film vedi il signore degli anelli o appunto il grande West Story del passato non riesca a trionfare anche nelle categorie quelle più blasonate è un segnale brutto secondo me ora non so se è un segnale come dire culturale c'è un momento storico oppure un segnale di quest'anno certo che è che sono tanti anni che un film che vince il miglior film non ha anche quel tipo di impatto se non proprio spettacolare a quanto meno popolare eh ma ci sono tanti problemi che purtroppo hanno invaso il cinema americano un po' come tanti anni fa e andrò a leggere un articolo specifico di Wired in cui si parla poco di cinema si premia poco il cinema e si sta molto più attenti a tante altre dinamiche esterne politiche sociali ehm delle vere e proprie cacce la famosa caccia alle streghe e quindi quando poi dai più attenzione a tanti altri piccoli dettagli e non al cinema con la C maiuscola eh secondo me questo lo paghi eh è inutile che che andiamo a a a a rendere questa pillola più dolce perché c'è poco da rendere più dolce poi uno e posso anche essere d'accordo anzi sono d'accordo nel dire che il cinema il grande cinema è fatto anche di quelle cose lì ma non deve dominare quella cosa lì ci sta che voglio dire per tutta una serie di motivi si decide di premiare un film come Coda no? rispetto ad altri film il punto è che questa è una forse una tendenza ripetuta negli anni sicuramente nell'ultima decina d'anni ma scusa io vado al 2012 e no 10 anni fa è The Artist poi c'è Argo che è un film bello di cui però ci siamo dimenticati tutti 12 anni schiavo il caso Spotlight si 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 guarda è chiaro e i film che andavano a dominare un certo tipo di e tra l'altro molti di questi film non hanno vinto il premio per la miglior regia e quindi capisci che c'è proprio un modo di intendere il cinema che è diverso perlomeno in America a livello dell'industria ma come lo possiamo intendere noi appassionati europei forse assolutamente concordo con quello che hai detto quello che mi domando è come si fa a non vedere che un film come Dune da un punto di vista produttivo da un punto di vista tecnico altrimenti non gli avrebbero dato tutti i premi principali a livello di maestranze come può non vincere a quel punto il miglior film io adoro Coda mi è piaciuto tantissimo mi sono anche commosso però un conto è il gusto e un conto è quello che è evidente anche delle persone che seguono il cinema meno rispetto a come lo seguiamo noi e te lo posso garantire mi è capitato in questi giorni vedendo Dune mi hanno detto ma come ha fatto a non vincere questo film come ha fatto a non vincere il premio come miglior film se ha vinto tutto ha vinto la fotografia ha vinto il montaggio ha vinto la colonna sonora ha vinto la scenografia cioè come fa poi a non vincere almeno la regia per dire come è possibile non ha senso o anche non la regia ma se come dire il premio al miglior film è il premio che viene dato ai produttori e allora esatto il film del genere non vince non premio alla produzione onestamente onestamente gli Oscar sembrano vacillare dal punto di vista della credibilità comunque dai andiamo a leggere i premi allora faccio semplicemente una nota se ci state guardando su youtube ho fatto un video nel momento in cui questo video online è già sul canale proprio parlando di coda e di che senso ha perché poi il premio dato a coda che è un film apple che ha tutta una storia produttiva e distributiva particolare è come dire un premio che fa macchia cioè che segna o no potrebbe segnare un prima e un dopo da questo punto di vista quindi se vi va ve lo linko e voi lo potete vedere andiamo allora andiamo con i premi partiamo dal più importante a scendere dai allora cominciamo con il film quindi coda tu giustamente tu sei abbastanza contento perché il film ti era piaciuto allora se parliamo del gusto del singolo quindi se parliamo del gusto di Riccardo Iannacone coda è un film che mi ha commosso è un film che mi è piaciuto che sa toccare le giuste corde di conseguenza io sono contento molto meglio coda di altri film se parliamo da un punto di vista creativo produttivo legato proprio all'industria cinematografica hollywoodiana secondo me è un film sbagliato avrebbe dovuto vincere un altro titolo aveva molto più senso Dune aveva molto più senso West Side Story aveva paradossalmente anche più senso invece il grande sconfitto ovvero il potere del cane che non ha vinto praticamente niente e quindi Netflix esce con le ossa rotte rispetto al confronto con Apple che arriva fa Maramau e si prende i tre premi non dico più importanti perché ci sono anche premi più importanti però chiudere con la tripletta regi scusatemi chiudere con la tripletta miglior film miglior sceneggiatura non originale miglior attore non protagonista è una bella tripletta si sono viste triplette migliori però insomma è una bella tripletta mi viene da sperare allora questo è come dire un riconoscimento a Apple anche per il modo in cui sta entrando nell'industria ne parlavamo l'altra volta parlando di serie tv cioè del fatto che produrre poco produrre bene molto bene questo non l'ha prodotto Apple Apple ha visto il film Al Sundance ha chiamato il prodotto e gli ha detto io vi allungo 25 milioni di dollari e voi me lo date in esclusiva e quelli hanno detto subito subito e però è interessante pensare che poi nei prossimi anni Apple arriverà l'anno prossimo per esempio al cinema con il nuovo film di Martin Scorsese dal costo che si aggira tra i 2 e i 300 milioni di dollari prodotto da Apple e la speranza è che poi allora non si dimentichino di quello per aver premiato Coda e anche lì tutto il discorso che si sta facendo negli anni di dare dei premi per mostrare l'inclusione di certi mondi come dire gli afroamericani con Moonlight le donne con Nomadland e via dicendo io purtroppo sai come la penso su questo discorso io sono a livello a livello umano a livello umano sono per la stra-inclusione ok addirittura io ne faccio una battaglia mia personale per chi non lo sapesse io gestisco una casa editrice una realtà editoriale che si chiama Reartou e sono all'interno di questa realtà editoriale quasi tutte donne gli editor e pubblichiamo al 70-80% opere di donne quindi proprio se si parla di inclusività io mi metto in cima a questo monte però qua non stiamo parlando di inclusività qui stiamo parlando di arte se il film è più bello è un altro va premiato quello non è che non lo puoi premiare perché lì il regista è uomo o perché magari ci sono pochi attori di colore cioè è una cosa che non ha senso perché allora a quel punto non vai più a premiare l'arte ma premi la politica premi gli aspetti sociali e allora cade il castello peraltro come dire per regolamentare cioè vuol dire se la questione è l'inclusione l'inclusione intanto deve passare come dire dalle pratiche del lavoro e allora lì infatti fa bene l'academy a dire è giusto che i film che vengono prodotti abbiano come dire dei cast compositi ci siano molti toni cioè questa è una questione che ha a che fare con il lavoro poi il giudizio ovviamente lo sappiamo è il giudizio credo che però per arrivare al momento in cui saremo tutti più sereni e si potrà dire che un film diretto da una donna è brutto o che un film su tematiche afroamericane o di altre cose siano brutti bisogna prima fare un altro passo cioè bisogna arrivarci davvero a essere inclusivi e allora poi puoi dire che è brutto adesso ovviamente sì ma gli stadioni però perdonami la questione è delicata cioè rischi che voglio dire prima come dire c'è sempre una categoria che deve essere più protetta di un altro però scusami Emanuele quindi si arriva un po' al domino il problema è molto semplice come disse una volta a Baratta durante una conferenza il problema non sta mai a valle il problema sta a monte come era anche per il festival di Venezia per quella conferenza stampa il problema del pubblico come posso essere io in questo caso è un problema derivato dall'ipocrisia generale ok aspetta che ha citofonato momento epico sì sì bene chissà quale sarà questo tanto chissà chi sarà al citofono di Riccardo momento meraviglioso un pacco per una persona non ero neanche io la persona un pacco generico un pacco generico mentre tu finisci la frase io vado a prendere il caricabatterie momenti epici che si spegono aspetta dove ero arrivato io perché mi sono la mente ogni tanto sfarfalla no tu stavi dicendo che il problema di questa cosa io dicevo c'è sempre una categoria da salvare e si fa l'effetto tonno ah ecco stavo dicendo sì secondo me il problema è a monte non è a valle ovvero secondo me il problema risiede nell'ipocrisia ovvero essenzialmente l'ipocrisia del cinema americano è difficile da contenere in una bolla che poi loro stessi hanno creato quindi il problema essenziale è l'ipocrisia adesso prima o poi Emanuele tornerà gliela sbatto in faccia questa ipocrisia e glielo dico mi stai sentendo secondo me il problema secondo me il problema è l'ipocrisia ovvero loro creano il problema cioè loro lo generano quel problema sono loro che in passato hanno creato quel problema un po' come i nativi americani prima prima li 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 torturano li massacrano e poi nel 2020 dicono alla squadra di football dei Washington Redskins eh ma non potete chiamare la squadra Redskins se no mancate di rispetto ai nativi americani ma come l'avete sterminati voi tre anni anni fa eh beh no non erano gli stessi ho capito che non sono gli stessi però quella quella cappa di ipocrisia è imperante cioè se le donne non riescono ad avere uno spazio giusto e meritevole all'interno dell'industria non è colpa del pubblico la colpa è di chi lo produce il film di chi produce le opere è colpa di Hollywood stesa o delle varie industrie che non lo permettono anche fuori da Hollywood idem per la questione afroamericana tu non te ne puoi fregare per decenni non puoi avere una polizia che ancora oggi va lì piega il ginocchio e uccide le persone e poi dici no vabbè ma il premio non lo diamo a La La Land perché pur benché sia il premio il film migliore noi per dare un messaggio alla politica a Trump dobbiamo darlo a Moonlight ma che discorso è ma tu il cambiamento valla ad attuare nella vita vera valla ad attuare nella società valla ad attuare alla base quando si parla dell'inizio del monte quando il fiume comincia a scendere non che per lavarti la coscienza lo risolvi a valle il problema è lì la questione tu puoi e guarda poi ti leggerò quest'articolo di Wired che lo spiega molto bene partendo dalla questione Will Smith tu puoi pure premiare mille Moonlight puoi pure premiare mille coda ma se non risolvi il problema dalle sue fondamenta il problema ci sarà sempre sempre con la S maiuscola quindi ben vengano i premi alle donne alle registre ai film afroamericani ma partendo da un assunto fondamentale tutti devono avere pari opportunità tutti devono avere pari possibilità però poi si premi al film più bello non che premi quei due tre a cui fai che fai entrare e poi li devi dare a loro perché ti devi lavare la coscienza e questo è il problema sì soprattutto poi è interessante questa cosa perché è evidente come dire il senso di colpa di chi è privilegiato perché poi almeno fino a un paio di anni fa l'academy era fatta all'ottanta per cento di maschi bianchi quindi è chiaro che poi lì c'è una questione di va anche detto un po' però un'altra cosa cioè i criteri con cui noi giudichiamo se un film è bello o brutto e meritevole o no a volte sono come dire anche in maniera involontaria connotati rinchiusi da un certo tipo di modo di pensare che ci viene dal passato cioè se come dire si è sempre si è sempre pensato faccio un esempio che so che a te Caro che un film per teenager una serie tv per teenager è culturalmente inferiore perché come dire gli adulti maschi bianchi che hanno fatto le graduatorie di gusto nella storia ci hanno raccontato quello allora noi saremmo pensati saremmo portati a pensare che un film per teenager una serie per teenager non vale quanto un grosso drammone che adesso estremizzo che gossip girl sia la cacca sotto le scarpe di true detective quando invece non è detto non è per forza così quindi il cambiamento poi deve anche passare deve passare sicuramente come hai detto tu per chi produce i film quindi il fatto che ancora oggi i film diretti da donne ma arriverò a dirti di più soprattutto i film prodotti da produttrici donne non arrivano al 30% poi segna tutta una serie a ricasco segna tutta una serie di problemi il fatto che un attore un attore nero può fare solo il ruolo del nero o in film per neri e non possa fare un ruolo generico cioè quello dell'eroe che non ha non è bianco nero verde o blu è un eroe e basta quello è comunque un problema che a ricasco porta il fatto che pensiamo in ghetti quindi per le donne i film per i ragazzi stai dicendo quello che dicevo io ovvero certo il problema non si risolve quello vero rimane lì non lo risolvi alla base lasci questa ghettizzazione fai passare alcuni attraverso un bucherello e poi quando arrivano i premi dici eh vabbè lo dobbiamo dare a loro lo dobbiamo dare a loro perché se no facciamo la figura di chi non è inclusivo o anzi e attenzione aspetta aspetta o anzi ti vanti di quel premio hai visto hai visto esatto ti vanti hai visto quanto siamo stati inclusivi invece no perché in realtà metti i paletti a tante registe donne a tante produttrici donne a tantissime situazioni creative artistiche di stampo afroamericano e lo fai dando il cosiddetto no bastone carota perché da una parte fai in modo che l'industria proceda in quella direzione però dall'altra ti lavi la coscienza e dici sì però premio tizio premio caio avete visto il bianco non viene più premiato perché dobbiamo darlo a delle minoranze non ha non ha assolutamente senso e tra l'altro c'è anche la fregatura sotto mi vorrei schierare al fianco della regista che ha vinto da poco il premio come miglior film e miglior regista la Zao per il bellissimo Nomadland a cui poi hanno affidato un film Marvel l'hanno massacrata e io lo dico qua secondo me Eternals è uno dei film Marvel più belli in assoluto proprio perché c'è una visione autoriale e di grande livello di una cineasta meritevole ma lo dico non perché è Closao poteva essere anche mia nonna ad aver diretto quel film io credo che dobbiamo entrare nell'ottica delle idee che le cose belle sono belle a priori bisogna semplicemente dare la possibilità a tutti di giocare con lo stesso pallone dopo che tutti hanno questa possibilità va premiato il migliore quello che è diciamo a maggioranza il più bello perché di grandi artiste donne visto che stiamo parlando della SAO ce ne sono state nella storia riguarda Ella Fitzgerald della musica abbiamo parlato di Agatha Christie qualche puntata fa le donne molto spesso sono più brave degli uomini quindi dategliela questa possibilità fate in modo che come dice Emanuele quel 30% diventi 50% giochiamo ad armi pari non che fate i film tutti a qualcuno e poi però alla notte degli Oscar lo diamo a quell'altro perché è meglio così ma dico ma è assurdo proprio perché il problema va risolto a monte io pongo proprio il punto su i film non devono essere semplicemente diretti o scritti da donne o da minoranze chiamiamoli minoranze per semplificare ma anche prodotti perché comunque i soldi che sono quelli che fanno muovere il mondo del cinema come tutti i mondi che conosciamo purtroppo purtroppo per fortuna i soldi sono ancora in mano ai maschi bianchi e ma questo ribadisco siamo dentro una bolla di ipocrisia e quello che mi dispiace di Coda così ci riallacciamo e possiamo andare avanti con i nomi quello che mi dispiace per Coda è che Coda è un film bellissimo è un film magnifico con un respiro anche universale eppure secondo me sta lì e alza quel premio perché qualcuno si deve lavare la coscienza e questa è la cosa che mi infastidisce e non perché è ritenuto oggettivamente il migliore di questa edizione secondo me c'è anche proprio una mossa di politica industriale rispetto ad Apple oltre che il concetto del e questa cosa sarebbe grave comunque infatti appunto se vi va ne ho parlato nel video dedicato a Coda quindi magari lì approfondiamo il discorso c'è anche un altro tipo di cosa andiamo avanti e chiudo parlando chiudo Coda dicendo che e questo poi tra l'altro il fatto che sia stato visto dal mondo perlomeno dagli appassionati vicini ma come il peggior Oscar mai dato quando ci sono stati film decisamente peggiori di Coda questa è un'altra cavolata ma non è per niente vero io non sono d'accordo che il film sia bellissimo però è un film discreto però anche lì siccome è un film che viene percepito come un film per famiglia un film piacevole un film di buoni sentimenti non ha dignità di competere anche questa è una cosa che ha a che fare con il nostro mondo cioè adesso noi sappiamo ma chi ha scritto questa cosa o l'ha detta non sta bene adesso noi siamo convinti e sappiamo tutti che Steven Spielberg che è un maestro e che i suoi film sono i film di un grande maestro del cinema ma fino a ma neanche tanto fino a 15 anni fa se tu nominavi il cinema il cinefilo Indiana Jones ah ma sì il film per bambini capito e ti il film per bambini è una delle robe più strazianti che si siano mai viste guarda io non vorrei io l'ho visto a 6 anni il film per bambino ci ho ancora referito addosso guarda io non vorrei eccedere in altri commenti perché già sono stato piuttosto aspro qui rischio veramente di superare la soglia di conseguenza mi trovo d'accordo con te e andiamo avanti con la lettura dei premi andiamo avanti il premio per la miglior regia lo è anticipato Jane Campion per il potere del cane che è l'unico premio aveva vinto aveva vinto un premio me l'ero perso perdonatemi secondo me meritato meritato perché la Campion è una grande regista e il suo lavoro per il potere del cane è un lavoro enorme da un punto di vista proprio dell'immagine che trasmette e della narrazione attraverso la macchina da presa secondo me l'Oscar alla Campion è meritato io proprio visto questo ci aiuta anche a pensare come uno pensa alla regia se è semplicemente ciò che tu vedi del film poi in realtà la regia è anche una cosa appunto un po' più sottile cioè di modo in cui di attori di modo in cui fai sì che certe cose emergano e c'è una sottigliezza nel raccontare i personaggi nei duetti tra i personaggi cioè la sequenza al pianoforte tra Christian Dunst e Benedict Cumberbatch ha una sottigliezza che quella è una grande regia infatti poi secondo me poteva anche vincere il premio per la sceneggiatura che ha vinto Coda allo stesso modo ma io guarda ripeto a parte che tu lo sai che la penso come te io non amo molto i premi cinematografici quindi non seguo gli Oscar esatto è un gioco non seguo gli Oscar da tanti anni forse dalla debacle hollywoodiana di La La Land che mi ha lasciato esterrefatto però probabilmente io a Coda avrei dato la sceneggiatura non originale e l'attore non protagonista che lui è Kotsura è stato bravissimo e avrei dato il miglior film o alla Campion per il potere del cane o a Dune e a Villeneuve sì però comunque poi adesso cerchiamo visto che siamo già a 35 minuti facciamo dei discorsi un po' più ampi perché appunto Jane Campion comunque il premio è meritato sì sì assolutamente è solo la terza se non sbaglio la terza regista donna nella storia ad aver vinto il premio questo è grave questo è grave è molto grave secondo me la quinta è denominata e la terza vince ok è grave quindi adesso a questo punto che si fa si danno tutti i premi Oscar alle donne fino a quando non si pareggia l'errore fatto in precedenza non ho capito mi sfugge il ragionamento di Hollywood anche perché peraltro se tu naturalmente no però se tu porti i film diretti scritti e prodotti dalle donne alla parità poi viene quasi immagino venga quasi naturale che quei film poi abbiano le stesse possibilità di essere belli o brutti cioè se tu su dieci film ci sono cinque di uomini cinque di donne un anno vince la donna cioè è normale che poi come hai detto tu stanno tutti partono tutti con le stesse possibilità e invece no perché se non sbaglio ci sono due film di donne quest'anno e otto film di uomini quindi poi alla fine sembra quasi che tu dici oh raga scusate ne abbiamo messi otto di registi uomini e quindi facciamo vincere una delle due donne non li possiamo pure premiare non li possiamo pure premiare allora passiamo agli attori andiamo in ordine dal basso i non protagonisti come hai detto Troi Cozzur per Coda che fa una grande interpretazione poi strameritato strameritato il secondo attore non udente sordo a vincere la prima era lei che interpreta la moglie nel film Marlee Matlin e poi c'erano anche altre quattro belle interpretazioni Chana Nins Jesse Plemons J.K. Simmons Cody Smith McPhee però diciamo che questo è un premio che no 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 questo è meritato e così come credo sia molto meritato sia molto meritato quello di Ariana De Bose per USA Story come attrice assolutamente sì vorrei dire una cosa sulla De Bose che veramente è straordinaria straordinaria balla canta ha un'espressività magnetica sfonda lo schermo secondo me io bold prediction secondo me la De Bose diventa un'attrice pazzesca la next big thing come dicono in America non lo so ma ho l'impressione che scalerà la vetta molto velocemente è nata una stella peraltro e qui appunto USA Story parte dal teatro no ed è come quei grandi ci sono quei ruoli teatrali cioè dei grandi classici no una Desdemona una Lady Macbeth oppure la tragedia classica per cui se arrivi a interpretarlo vuol dire che sei una grande attrice e quando lo interpreti la gente si leva il cappello infatti non è un caso che quello stesso ruolo al cinema è stato interpretato due volte da due attrici che hanno vinto entrambe un premio Oscar l'altra Rita Morelli 60 anni fa certo invece gli attori protagonisti sono i due premi forse non so se i più discutibili della serata ma tra i più discutibili cioè Will Smith al di là dello schiaffo per King Richard e Jessica Shalstein per gli occhi di Tammy Faye allora Jessica Shalstein sarò molto rapido è uno di quei casi hollywoodiani in cui cavolo ci regniamo conto che Jessica Shalstein ha fatto un sacco di film in cui meritava l'Oscar ovviamente diamoglielo per il più brutto che ha fatto quindi potevi darglielo per Zero Dark Thirty potevi darglielo per veramente se vado a prendere la filmografia ce ne sono almeno cinque che meritavano l'Oscar ovviamente glielo danno quando si fa il parruccone e si mette il truccone e non è il primo caso legato agli Oscar anche Charlize Theron che ha fatto tante performance clamorose quando gliel'hanno dato per Monster però se non sbaglio quello di Charlize Theron in quel caso era la prima volta che recitava in un film che puntava poi all'Oscar cioè prima comunque era un'attrice in progetti più di intrattenimento qui invece abbiamo Jessica Shalstein che è una che ha esordito facendo Salome per Al Pacino quindi non è una che scherzava e poi ha fatto sul serio sì poi parliamo di un'attrice che ha fatto Take Shelter The Tree of Life The Help Zero Dark Thirty La scomparsa di Eleanor Rigby Interstellar Crimson Peak Molly's Game Miss Sloan pure era strepitosa non so se tu hai visto Miss Sloan sì 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 Miss Sloan era strepitosa ma poi dico ma Charlize Theron non gli danno il premio per Mad Max Fury Road scantalo e gomblodo ecco lì è un altro problema la Dune ti do tutti i premi tecnici perché tecnicamente alziamo le mani però hanno un premio Charlize Theron che è il cuore pulsante del film no soprattutto quello è uno dei film fondamentali per raccontare cos'è il cinema degli anni dieci cioè proprio uno di quei film che segnano un mondo un'epoca ma scusa perdonami io spezzo un'altra lancia a favore del concetto di femminismo in un film che si chiama Mad Max Fury Road uno dei più grandi film degli ultimi 30 40 anni senza proprio colpo ferire c'è un personaggio femminile che si mangia letteralmente tutti in scena una Charlize Theron magistrale enorme a tal punto che secondo me Tom Hardy ha rosicato in post produzione vedendo anche il film c'hai proprio l'assist a porta vuota per dire vedete che cosa vuol dire avere un personaggio femminile straordinario in scena no non gli danno il premio ma allora io mi arrendo che ti devo dire mi arrendo invece Jessica Chester per un ruolo che è anche discutibile perché poi proprio in nome di una presunta idea di femminismo si come dire racconta come vittima inconsapevole una donna che invece è stata una truffatrice insieme al marito e poi siccome va tutta di vocine trucco parrucco roba mascheronica tipo ciacchegnola di famosissimo ciacchegnola di guzzanti esattamente quella storia lì vabbè invece di King Richard mi sa che ne avevamo già parlato tre o quattro puntate allora Will Smith non avrebbe meritato l'Oscar dal punto di vista artistico io l'ho detto l'ho ridetto e lo ridico anche oggi io credo che il premio dovesse andare a Danzel Washington per il livello della sua performance per il personaggio perché con tutto il rispetto per Richard Williams Macbeth credo che abbia un valore artistico umano politico molto più diciamo interessante e ampio appena 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 detto ciò la scena dello schiaffo è stata una scena molto di basso livello ma di basso livello da parte di tutti in primis Will Smith che ha sbagliato in maniera grande è stato un grande errore però ha sbagliato pure la Pink Smith che non ha provato neanche a fermarlo ha sbagliato Chris Rock secondo me nei modi perché ci sono modi e modi per fare grande satira e secondo me se devi fare la satira la devi fare veramente a livelli super e mi viene in mente Rick Gervais a me non è piaciuto Chris Rock secondo me quella era nemmeno satira era una battutaccia ma è riuscita male è riuscita molto male nel senso che poi qualcuno dice che lui non sapesse del fatto che Giada Pinker Smith ma probabile probabile poi pessimi tutti i colleghi che hanno fatto la standing ovation a Will Smith perché secondo me non andava fatta come ha detto Jim Carrey come ha detto Jim Carrey pessima anche l'Academy che sarebbe dovuto intervenire immediatamente fermare questa cosa e no che adesso ah forse il 18 gli levano il premio Oscar ma cos'è questa pupazzata è una pupazzata tu sei l'Academy e sai che l'interesse per il tuo show è in caduta libera accade una cosa del genere ma che fai non lo sfrutti te la tieni stretta sapendo che sapendo che un quarto d'ora dopo quel tizio che ha dato lo schiaffo salirà sul palco per prendersi la statuetta ma che non sfrutti come ha detto tu infatti gli ascolti seppur di poco comunque non è risalita e immagino che in quel momento ci sia stato il picco dell'intera serata c'è un momento in cui ma questa è ipocrisia però vabbè ma certo è ipocrisia perché cavalchi il cavallo perché ti serve poi però il giorno dopo eh scantalo qua bisogna intervenire no alla violenza no a tutto e allora allora lo mandi fuori scena prima ma poi no che senso ha ritirargli il premio no il premio concordo il premio è dato alla alla brava persona alla persona più simpatica del 2021 no ma sì infatti è un ah tu e cinque sei mila quanti cavolo siete dell'academy avete deciso che quello è il miglior attore dell'anno e mo ve lo tenete esatto ve lo tenete avete sbagliato persona lo cacci via dall'academy ma tanto il premio l'ha vinto pure se glielo ritiri agli annali di fatto lui il premio l'ha vinto allora è come non ha discorso sul campo non sul campo sì sì la vittoria sul campo senza campo ma io vorrei aggiungere un'ultima cosa fondamentale allora appurato che Will Smith ha sbagliato punto esclamativo appurato che il personaggio di Will Smith si è dimostrato tossico tra virgolette come tossico probabilmente era anche il film e tu ne hai parlato in uno dei tuoi video e io mi trovo alquanto d'accordo con quello che hai detto in quel video tossico il film Will Smith secondo me per no per osmosi è riuscito a diventare tossico quanto il personaggio che ha interpretato appurato questo appurato che lui si è ritirato dall'academy che comunque ha chiesto scusa ufficialmente tutto quello che ti pare Wired giustamente scrive in un articolo a questo punto la domanda è semplice è giusto ostracizzare Will Smith e spingersi oltre la sua esclusione all'academy dopo quello che è successo perché adesso sembra che gli chiudono tutti i progetti non lo faranno più recitare per chissà quanti anni addio bad boys 4 addio al progetto per la apple addio tutto adesso come Kevin Spacey qualche anno fa o altri attori pure Armie Hammer che abbiamo visto di recente nel nel nuovo Poirot adesso Will Smith è il nemico pubblico numero uno ha fatto una cazzata ha chiesto scusa non è importante che lui abbia chiesto scusa serve un capo espiatorio e deve essere Will Smith io questa cosa la trovo perdonami Emanuele abberrante però io capisco però io cioè capisco perlomeno nell'immediato capisco che una produzione che ha come dire che ha assunto ha ingaggiato soprattutto poi lo stesso Will Smith spesso è il produttore dei tuoi film essendo uno abbastanza importante a Hollywood capisco che aspettiamo un attimo cioè aspettiamo un attimo che le cose si calmino che tutto si sistemi perché farlo adesso con il rischio che poi io do a te un sacco di soldi investo un sacco di soldi e poi il film non viene distribuito viene boicottato eccetera aspettiamo quella è una cosa che capisco sì però sempre Wild scrive secondo molti quello che sta succedendo in questi anni è poi così differente da quell'atroce periodo noto con la definizione di maccartismo secondo me qui anche in questo caso la risposta alla domanda è no qui c'è un evidente caccia alle streghe ma non a Will Smith a determinati personaggi che sbagliano per qualcosa perché sbagliare errare è umano e quando poi quando questo errore viene commesso non c'è più margine di manovra per comunque chiedere scusa l'essere umano può sbagliare può migliorare può far capire e anche giustificare perché è arrivato a quell'errore altrimenti veramente vogliamo pretendere e presumere che alcuni sono perfetti ed altri sono marci e questo è un messaggio sbagliato quello che passa e soprattutto soprattutto nel momento in cui proprio come dire anche i movimenti che in america richiamano woke cioè di quelli che sono svegliati da un certo torpore culturale diciamo così dicono proprio che uno dei processi più importanti nel momento in cui si ha a che fare con l'aver preso in atto che appunto ci sono delle discriminazioni ci sono dei problemi ci sono dei privilegi è anche quello di chiedere scusa ora però il problema è che alla richiesta delle scuse dovrebbe magari non sempre ma dovrebbe eseguire il perdono cioè se io ti chiedo scusa perché ho sbagliato a darti un ceffone ora al di là del rapporto con Will Smith eccetera però diciamo che lì il ceffone lui l'ha dato anche all'Oscar anche all'Academy io ti ho chiesto scusa anzi ho fatto in modo io Academy che tu mi chiedessi scusa attraverso le pressioni che ti possono aver fatto Denzel Washington c'è anche il tuo padrino spirituale bla 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 a che serve che io poi ti ho chiesto scusa se tu mi cacci via mi devi il premio e non mi fai più lavorare è un po' la questione di quello che si pente e poi finisce in carcere i lavori forzati quando esce ammazza le persone perché secondo me è totalmente sbagliato l'articolo è di Wilde e di Giulio Zoppello che tra l'altro scrive anche questo altro passaggio che secondo me è molto interessante vi è qualcosa di più profondo vi è la realtà di un'industria dello spettacolo che insegue il miraggio di una perfezione totale nei suoi rappresentanti con un solo problema nessuno è perfetto quindi come si può ricercare la perfezione quando è l'essere umano stesso a essere imperfetto altra ipocrisia non solo tu lo pretendi perfetto ma fai di tutto andando a scavare nel suo passato fai di tutto per trovare la sua imperfezione e metterla alla cogna cioè vedi chi era Tyler Perry mi pare che due o tre anni fa andarono a cercare nei messaggi nelle mail nei tweet che aveva mandato 65 anni fa e aveva detto una battuta c'era uno che aveva fatto una festa di carnevale con i baffetti da Hitler e quindi quello significa che tu 25 anni fa sei nazista per cui sei un criminale di guerra oppure uno che aveva fatto una battuta sessista e quindi andare a cercare quella cosa e poi posso capire giornalisticamente ma tu hai detto questa cosa come mai no tu hai detto questa cosa quindi devi morire esatto secondo me è molto sbagliato anche perché tornando sul grande impero americano sportivo mediatico politico poi gli americani tendono a dare la redenzione la resurrezione a personaggi che magari non si sono mai scusati hanno fatto azioni terribili però non si sa perché alcuni personaggi devono no ascendere ed essere perdonati per motivi che non sono ben chiari quindi questo è il paradosso poi di questa ipocrisia che alcuni magari sbagliano e vengono completamente tagliati fuori benché questi possano chiedere scusa altri invece di punto in bianco vengono ritirati fuori dal cappello perché non perché magari quel personaggio quella persona se lo merita o perché ha fatto mea culpa ma semplicemente perché conviene nello scacchiere politico sociale sportivo americano quindi mi spiace dirlo perché lo ripeto come ho detto a inizio puntata io sono un grande amante degli Stati Uniti a livello cinematografico a livello sportivo anche a livello politico però alcune volte fanno un po' ridere passami questo termine fanno ridere da un punto di vista proprio morale sociale ti viene quasi da lasciarti andare a dell'ilarità perché li guardi e dici ma che stanno a combinare ma cosa combinano sì la redenzione come hai detto il comeback l'epica del comeback è molto americana e voglio dire magari fra cinque anni dopo cinque anni che non lavorerà costruiranno un progetto cinematografico pazzesco con cui Will Smith tornerà e magari vincerà un altro Oscar c'è per dire questo è il destino di Will Smith o scomparirà totalmente oppure lo ripescheranno quando vorranno loro guarda io non credo nella sua scomparsa anzi credo che appunto visto che poi tu hai fatto gli esempi di altri cioè che Kevin Spacey era stato accusato di cose molto peggiori al via che l'abbia commesso o meno l'accusa che gli si poneva era molto peggiore rispetto a ho dato uno schiaffo a uno perché sono mezzo matto no sì allora è chiaro che lì però c'è una differenza c'è una differenza che Kevin Spacey non si sa se l'ha fatto non c'è un processo non c'è niente è tutto a chiacchiere è tutto a chiacchiere Will Smith l'hai visto era in diretta mondiale quindi è una cosa oggettiva sì però come dire se dieci persone ti accusano della stessa cosa che tu io sono d'accordo io sono d'accordo però esiste uno ti vuole sporcare le mani poi fa un po' di anni ti sarà dimenticato tutto immagino io non sto io non sto qui non sto qui per giudicare o salvare un personaggio tipo Kevin Spacey sto semplicemente dicendo che la società si basa sullo stato di diritto quindi ci devono essere dei processi ci devono essere dei risvolti ci devono essere delle prove altrimenti io mi sveglio domani convinco dieci persone che qualcuno ha fatto qualcosa che non va bene e automaticamente l'hanno detto dieci persone quindi questa cosa però questa è teoria del complotto ma non è una questione di teoria del complotto è questione che ci devono essere prove se non ci sono prove una cosa non può sussistere punto e questa è una questione legale sono d'accordo con te in una questione come dire morale statistica eccetera cioè come dire statisticamente solo il 2% delle accuse di chiamiamola molestia sessuale che poi sia molestia stupro eccetera solo il 2% risulta poi falsa questo statisticamente quindi 1 e il 2% se tu devi pensarne a 10 le probabilità diminuiscono esponenzialmente poi che tu mi dici che questo vada accusato vada è chiaro hai ragione tu sarebbero delle prove tra l'altro credo ci siano stati già delle prime delle prime udienze delle prime sentenze a favore o contro cioè questo è un altro discorso ma il mio il mio è un discorso capisco che però un'industria rispetto a uno che forse potrebbe finire in galera fra tre giorni per per tentato stupro dico beh però aspetta un attimo invece ma come ci insegna anche la parola di Mel Gibson se sei una testa di minchia e ogni tanto vai a dare schiaffoni sono anche più cioè sono più propensi a perdonarti allora io sono d'accordo sono d'accordo con tutto quello che hai detto è chiaro che in potenza quello che è successo a un Kevin Spacey è molto più grave di quello che è successo a Will Smith poi ci sono anche dei casi come quello di Woody Allen che vince ben due processi perché vince due processi e lo continuano a trattare come se quei processi lui li avesse persi ma questo è un altro discorso io è proprio quello che mi dà fastidio Woody Allen è un esempio totale oramai non si parla più di fatti nella società di oggi i fatti contano poco i processi contano poco le sentenze contano poco conta quello che la gente scrive su Twitter conta quello che la gente afferma in maggioranza e quindi se Armie Hammer è un cannibale è un cannibale non conta poco cioè la cosa importante è ma Armie Hammer è davvero un cannibale o no non è quella la cosa importante la cosa importante è che tutti ne parlano tutti danno la propria sentenza prima che ci sia una reale sentenza e quindi poi le major dicono oh hai visto tutti dicono che è un cannibale quindi non lo facciamo recitare poi magari questo Cristo non è manco un cannibale e si attacca al tram ok quindi questa cosa su Woody Allen è clamorosa tantissimi attori ah mi vergogno di aver recitato per Woody Allen Woody Allen ha vinto dei processi ci sono stati addirittura dei giudici che hanno proprio detto che la Farro manipolava i figli nonostante questo non conta assolutamente niente perché Woody Allen è uno da ostracizzare e infatti l'hanno ostracizzato quindi magari è vero quello che dici tu magari Chiavis Pesi è un pezzo di merda magari la statistica sostiene che lui sia colpevole sono d'accordissimo però sarebbe bello in una società giusta che queste prese di posizione queste punizioni vengano date perché sono oggettive e non perché la gente si metta a farneticare sui social poi potremmo stare a discutere sul fatto che la giustizia funzioni male perché sono passati 5-6 anni e nessuno di queste nessuno di questi personaggi è stato giudicato invece magari la giustizia dovrebbe essere più celere e più chiara su questo ci sto ma che ma che il tribunale aspetta che il tribunale diventi il tribunale del popolo onestamente non mi sembra molto giusto certo su quello sono d'accordo però io non ti dico che mi giustifico fare lo stesso ma capisco una produzione che dice sai che c'è che mi spesi per ora meglio di no proprio come dici tu cioè aspettiamo che arriva il processo e che dica perché magari non lo so cioè capisco perché poi comunque alla fine della fiera quando di Armie Hammer si è capito che quella roba lì sì magari come dire c'ha la perversione che gli piace mordere le sue compagne però non credo che prenderei a dubitare che sia il vero un cannibale quindi mi chiedo perché la carriera di Armie Hammer finisce me lo chiedo perché non è finita come hai detto te l'abbiamo visto in assassino sul nero ma sì ma quello ho capito ma quello è un film precedente no 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 un film io mi ricordo che era pre mi ricordo anzi che la Disney voleva fare tutti i reshoot per la produzione voleva fare i reshoot e Kenneth Branagh gli ha detto guarda guarda non è come il caso di Ghetti perché qui sai è il protagonista il miammer quindi se andiamo di reshoot dobbiamo rigirare tutto il film un conto che Christopher Plummer fa quattro scene per sostituire Kevin Spacey un conto è che devi un conto è rigirare tutto il film quindi il budget c'è da doppio esatto infatti devi rigirarlo tutto però vabbè insomma il discorso è io sono dell'idea che chi commette uno sbaglio una colpa a seconda della gravità di quella colpa debba pagare chi quella colpa non l'ha commessa non è giusto che venga diciamo colpevolizzato perché il tribunale del popolo così ha deciso detto ciò se in questa società non esiste il perdono soprattutto per delle cavolate come quella di Will Smith ebbè allora siamo veramente siamo veramente alla frutta ma perché io poi sono d'accordissimo sul fatto che l'escuso cioè il prendersi cosa che è difficile fare prendersi le responsabilità di ciò che si è compiuto sia un passo importante per migliorare la società il pensiero assolutamente ma quante persone ammettono di sbagliare io ne ho conosciute poche nella mia vita allora lì poi voglio dire quelle scuse non sono sincere sì vabbè però allora a questo punto vabbè ma quello è un processo alle intenzioni esatto quello è un complotto tutto calcolato quello è un complotto vero ma ammettiamo pure no cioè ammettiamo pure che Will Smith si sia fatto due conti in tasca i suoi agenti gli abbiano detto e gli abbiano detto vabbè chiediamo scusa comunque per lui è un danno d'immagine no assolutamente e ti posso garantire che ci sono dei personaggi che non ci riuscirebbero comunque a chiedere scusa perché il proprio ego non glielo permette quindi non la darei come scontato poi lui sta in un momento della sua vita particolare lui prima di girare King Richard ha scritto un'autobiografia perché sta in un momento di grossa depressione di grossa crisi psicofisica e quindi nel libro racconta il suo percorso per uscirne e come ha detto lui sono un work in progress cioè non ne sono ancora uscito e quella roba lì no lo ha fatto tiltare come dicono i giovani e va bene cioè è un gesto secondo me orribile che poi che poi porta a tutto un livello di pensiero cioè il maschio alfa che vuole difendere la moglie che non vuole sfigurare di fronte agli altri quando gli insultano la moglie esatto una brutta cosa un brutto teatrino che può aprire tutta una serie di discorsi che però non c'entrano necessariamente con lui cioè lui è un uomo che ha sbagliato dice ho sbagliato punto punto infatti sono d'accordo se no veramente ha sbagliato pagherà perché appunto gli lo cacciano via dall'academy terranno i suoi film fermi per un annetto pagherà le sue conseguenze e poi però chi se ne frega vedremo vedremo ne parleremo dico una cosa molto qualunquista e populista che non mi aspettavo di dire mi sa che ci stanno altri problemi nella vita sì credo che ci siano problemi più importanti credo sia in dubbio insomma basta aprire un giornale o guardare un telegiornale ma anche all'interno di quel mondo lì c'è anche non voler uscire dalla bolla del cinema ci sono problemi più grandi senza dubbio appunto visto che siamo già un'ora passata io direi finiamo leggiamo tutti i premisi leggiamo tutto finiamo di parlare degli oscar e poi dire la puntata se siete d'accordo la puntata musical la facciamo la attacchiamo da qualche altra parte o la attacchiamo da qualche altra parte oppure gli dedichiamo lo specialino per quelle due tre puntate estive in cui no lanciamo fantastico specialino estivo sui musical specialino musicalino visto che poi abbiamo in mente un finale di stagione esplosifo esplosifo altro che le bombe di Mosch che Biscardi Maurizio Milano chiama Parigi Parigi chiama Milano ci sei della pegna alla Lazio Maurizio della pegna ma questa è una sono degli scoppietti sono che idoli che idoli noi ci avremo una puntata di fine stagione bombona proprio ve lo dico Maurizio della pegna alla Lazio ma sei sicuro? Sì della pegna alla Lazio aveva ragione ma ha giocato da schifo della pegna alla Lazio per carità me lo ricordo non è il primo grande campione che arriva in Italia e fa delle figuracce soprattutto alla Lazio mi ricordo anche Mendieta così però non so se Mendieta era un grande campione no ha vinto semplicemente due volte il premio di miglior giocatore della Champions League quando giocava al Valencia ma dopo o prima? prima prima e l'hanno pagato 80 milioni di euro mi ricordavo che con i miei amici di Fantacalcio lo prendevamo tutti in giro però non mi ricordavo che fosse stato già un campione Gais Camendieta madonna 80 milioni di euro 80 milioni 80 testoni quindi finiamo di dire i premi allora vado qui avevo chiuso accidentalmente la pagina eccola qua allora il premio gli attori le sceneggiature gli attori li abbiamo detti poi le sceneggiature quella originale per Belfast discutibile per quanto il film non mi sia dispiaciuto ma discutibile sì e non originale per Coda i segni del cuore anche qui c'è stato un po' di polemica perché dice eh vabbè ma è un remake e quindi e quindi cioè al di là del fatto che forse è la meno bella di queste sceneggiature ma mi stai dicendo mi stai dicendo che Paul Thomas Anderson non ha vinto niente manco quest'anno vabbè però voglio dire stendiamo stendiamo un velo pietoso devo fare l'esempio di Kubrick vabbè ecco però vedi questo è l'enne Kubrick con Shining venne candidato ai Razzis cioè per dirvi vabbè stendiamo un altro velo pietoso vorrei semplicemente dire ricollegandomi a quello che abbiamo detto fin qui un premio che si dimentica Paul Thomas Anderson è un premio che non ha credibilità per quanto mi riguarda poi sono d'accordo cioè sulla credibilità quello che noi ci può interessare è come stiamo cercando di fare è capire che se da quei premi ci possono essere non tanto delle cose che hanno a che fare con i bei film ma che ci possono dire qualcosa dell'America o del mondo in cui viviamo questo può essere interessante perché poi i bei film non è un Oscar che me lo deve dire certo l'Oscar può aiutare a farli uscire al cinema alcuni bei film infatti Coda è uscito dopo dicevamo c'è stata qualche polemica perché al di là del fatto che non si è piaciuto Coda ma dice ma può vincere un premio Oscar per la sceneggiatura un remake e perché l'adattamento di una pièce teatrale sì e un remake no è come la stessa cosa cioè io ho preso un testo che già esisteva e l'ho riadattato se può partecipare può anche vincere assolutamente sì concordo perché per esempio Drive My Car al di là del fatto che hanno fatto un lavoro molto diverso rispetto al racconto però ecco per esempio La Figlia Oscura che è il film di Maggie Gyllenhaal tratto da Elena Ferrante è molto fedele al racconto quindi che fai non lo fai partecipare perché è troppo fedele allora abolisci il premio no sì non ha molto senso effettivamente poi poi il miglior film internazionale che era abbastanza scontato Drive My Car tu non sei d'accordo giusto io non sono per niente d'accordo secondo me il film di Sorrentino è superiore però secondo me se la battono sì sì secondo me se la battono capisco cioè però capisco Drive My Car che abbia come dire anche qui molto spesso si usano queste categorie di film internazionali spesso la sceneggiatura per premiare dei film considerati artistici intellettuali infatti anche per questo il premio a Paul Thomas Anderson sembrava quello centrato il miglior film internazionale è il film in cui l'Academy fa vedere che premiamo anche dei film di grande arte in questo caso secondo me è un bellissimo film però ha sempre un po' da sempre un po' quell'impressione cioè secondo me secondo me tre quarti di quelli che l'hanno visto si sono detti ma ma che è non lo so io ribadisco è un bel film senza dubbio io probabilmente troppe aspettative ho letto il racconto di Murakami lo trovo comunque artisticamente meno ispirato del film di Sorrentino questo è il mio parere io lo trovo un gran bel film e lo trovo abbastanza vicino a quello di Sorrentino come livello tra l'altro però quest'anno la cinquina era di ottimo livello si quello si e poi miglior film d'animazione è Incanto questo è scandaloso questo è veramente scandaloso è abbastanza prevedibile si ho capito ma se prendi la cinquina dei film d'animazione probabilmente Incanto fa fatica arrivare quarto così te la butto lì tra questi secondo me l'unico meno bello è Raya è l'ultimo drama esatto Raya ma gli altri tre sono più belli secondo me Luca Flea e i Mitchell contro le macchine sono più belli questi io l'ho redato ai Mitchell per esempio probabilmente i Mitchell meritavano ma anche Luca come prodotto della Pixar sembra superiore a Incanto poi Incanto a me è piaciuto cioè me lo sono gustato me lo sono visto ma non attenzione non stiamo ma infatti non stiamo dicendo che sia brutto Incanto stiamo dicendo che vince sempre la Disney probabilmente sarebbe stato bello premiare Mitchell però capisci allora quando tu hai visto poi la replica della premiazione no? quando tu vai su un palco e tu che devi premiare quella categoria dice ah questi sono film per bambini e il tizio che ti sta vicino a te ti guarda e ti dice come a dire sai che parla e vede sti film capisci che poi un film che prova a fare un passo avanti non ha speranze e ma pure questa cosa non sia pensato per i bambini non ha speranze tranne pochi mi ha zachi vent'anni fa lo stai dicendo con parole tue ma la cosa che hai appena espresso dimostra ancora di più la bassezza e in certi tratti l'incomprensibilità di questo premio no no sono d'accordissimo poi andando avanti andiamo a quei premi tecnici che ha vinto tipo quasi tutti Dune ha vinto tutto Dune cioè miglior montaggio Dune miglior fotografia Dune tanto giustissimi miglior fotografia Dune e secondo me Greg Frazier farà il bis l'anno prossimo con The Batman poi ha vinto Hans Zimmer come colonna su Dune grande Hans Zimmer l'eroe della serata non so se poi hai visto sui social siccome il suo premio era stato dato prima lui se ne stava in se ne stava in albergo tipo ha fatto la doccia stava in accappatoio quando a un certo punto la figlia gli ha detto guarda papà che stanno ritrasmettendo adesso il fatto che tu hai preso l'Oscar lui lui si è corso non aveva l'Oscar con sé perché quelli poi glieli danno dopo e quindi ha preso un Oscar film e si è fatto la foto in accappatoio per i social fantastico secondo me Hans Zimmer dentro di sé non credeva di vincerlo perché avrà chiaramente pensato non me l'hanno dato per film molto più belli per colonne sonore ancora più grandiose non me lo daranno per Dune e invece gliel'hanno dato proprio per Dune e poi ha vinto questo era quasi impossibile non premiarli effetti speciali e sonoro gli unici premi tecnici che non sono stati vinti da Dune sono stati i migliori costumi a Cruderia che ci sta è un film sulla moda quindi ci sta e agli occhi di Tammy Faye perché ovviamente se tu fai un film di mascheroni e parrucconi è giusto che poi è giusto che vinci l'Oscar certo esatto ti stai dimenticando il premio più importante di tutti ma dici quella è la miglior canzone no quello dedicato ai fan il fan Oscar ma lo sai che non c'è cioè nella premiazione ufficiale non c'è cioè per dirti l'hanno quanto non gliene fregasse l'hanno pompato tantissimo ma tu sai perché per fare le bolle social io io ho un'idea del perché perché se l'avesse vinto Spider-Man facevano salire pure qualcuno sul palco a ritirarlo ma visto che ha vinto Zack Snyder hanno detto non facciamo trapelare troppo la notizia che ha vinto Snyder il rischio era che lo vincesse il cenerentola non è che non è che il film come si chiamava il film di Snyder terribile terribile sì d'accordo però dico in realtà i fan l'hanno dato ad Army of the Dead perché il loro messaggio era votiamo questo perché in realtà noi volevamo votare la Zack Snyder Justice League però visto che non si poteva per una questione di tempistiche di date e allora ripieghiamo tutti su Army of the Dead per battere quel truffaldino di Spider-Man sì però hanno passato poi due tre quattro mesi a pompare questa roba votate su Twitter scrivete hashtag quindi per far crescere quello che gli analisti chiamano l'engagement hai visto quanti follower ci abbiamo nel palmarès ufficiale non è segnalato non c'è quindi io credo che quando andrà in giro Zack Snyder non lo possa neanche dire che ufficialmente ha vinto un Oscar perché non è del palmarès ufficiale aspetta c'è una prova il premio del pubblico non è un premio vero se gli danno l'Oscar lui può sempre dire me l'hanno dato uno dice sì vabbè ma che stai a dire lui tira fuori l'Oscar e dice tiè però quello può sempre dire sei andato da un rigattiere esatto come Hans Zimmer con l'Oscar finto esatto non lo so povero povero Zack Snyder veramente e si sono inventati anche quell'altra roba di the best cheerful moment in history una cosa del genere pure lì ha vinto Zack Snyder quindi proprio secondo me loro vogliono ostracizzare anche Zack Snyder però allo stesso tempo c'è un pubblico che lo sostiene e questo daje daje Zack daje daje amico Zack quindi poi invece quello che me l'ho dimenticato era la miglior canzone originale No Time To Die tratta da 007 che è il il terzo Oscar consecutivo che 007 vince per la canzone dopo che per più di 50 anni non l'aveva mai vinto assurdo fare un po' di statistica miglior documentario che è bello se vi se amate la musica soprattutto la musica black d'epoca guardatelo Summer of Soul sta su Disney Plus gli altri il miglior cortometraggio documentario è per te Queen of Basketball ah fantastico fantastico io avevo recuperato qualche giorno prima anche Robin Robin che però è un cortometraggio di animazione e Audible che credo sia stato sconfitto da Queen of Basketball yes mi sono piaciuti entrambi sia il Pettirossino che Audible che anche qui è una storia di sordomuti giocatori di football sordomuti una storia fantastica di di coraggio di di forza interiore mi ha mi ha toccato particolarmente allora io direi di chiudere velocemente con i consigli allora andiamo con la sigletta della rubrichetta yeee bene ok vai tu con i consigli allora io per essere più rapido visto che non ho guardato non ho visto film degni di nota in queste due settimane vado con il consiglio seriale e basta sto vedendo la seconda stagione di Ted Lasso della Apple e niente ancora più bella della prima probabilmente Ted Lasso si conferma un prodotto televisivo secondo me notevole per tempi è molto è molto ristretto gli episodi durano 35 minuti far ridere far riflettere gli attori calzano a pennello tutti dal primo all'ultimo e ribadisco quello che ho già detto e che hai anche detto tu prima nel corso di questa puntata di questo episodio ovvero che la Apple fa poche cose e le fa davvero bene ma parlo soprattutto a livello seriale televisivo e ho adocchiato anche una nuova uscita una serie britannica di spionaggio sull'MI5 l'MI5 con Gary Oldman nel cast quindi Gary Oldman il capo delle spie quindi non lo so la sensazione è che Apple stia veramente lavorando in maniera intelligente rispetto ad altre piattaforme a proposito di Gary Oldman spia io così adesso mi è venuto in mente vi consiglio La Talpa di qualche anno fa che in realtà il titolo è Tinker Soldier Tinker Taylor Soldier Spy Tinker Taylor Soldier Spy gran film di spionaggio di 6 o 7 anni fa io invece siccome non ho visto serie di particolare bellezza in questi giorni vi consiglio un film che è un film d'animazione credo che si trovi ancora nelle sale soprattutto nelle sale dedicate al cinema d'animazione per bambini si chiama Lizzie e Red amici per sempre è un film dolcissimo è il primo film che ho portato mio figlio al cinema a vederlo perché dopo un po' di volte che lo vedeva a casa ho pensato che era pronto per vedere il grande schermo infatti ha molto apprezzato ed è la storia di un topo e una volpe tutto in stop motion quindi pupazzi di plastilina e proprio pupazzi veri di un topo e una volpe che muoiono nel momento in cui si stanno dando la caccia messi sotto una macchina finiscono in paradiso e devono mettere da parte la loro naturale nemicizia per come dire affrontare un viaggio in paradiso che li porterà alla loro destinazione finale chiamiamola così ed è non solo è dolcissimo è emozionante è interessante perché poi è un film della Repubblica cieca e quindi è un tipo di mondo che con l'animazione ha un sacco di come dire di rapporti anche nella storia che però noi non vediamo quasi mai e poi nel momento in cui lo vedete con i bambini è anche utile per cominciare a parlare di temi che però non sono facilissimi come appunto la morte che succede dopo la morte quindi è un film che io consiglio uno perché è bello perché è emozionante e due perché è un bel modo per approcciare i bambini a un altro discorso poi Andrea è abbastanza piccolo cioè ha quattro anni però magari i bambini di 6-7 anni può essere è abituato è abituato a vedere il padre che sta lì tutto il giorno a vedere i film certo comunque oh oh debutto cinematografico a quattro anni tanta roba il giorno prima il giorno prima si è visto Harry Potter a casa perché i suoi amichetti della scuola lo vedono già e quindi era curioso due ore e mezza della pietra filosofale senza un fiato proprio completamente rapito gli è piaciuto bene bravo bravo sono contento per lui sono contento per lui viva posso dirlo viva i bambini veramente hanno una poesia dentro di loro hanno una limpidezza una luce che purtroppo noi grandi tendiamo a dimenticare quella stessa luce che vedo anche negli animali onestamente nei cani nei gatti è l'uomo che si brutalizza io tantissime volte quando vedo nei film degli animali gli animali cioè non gli animali Disney ma gli animali veri che ne so devono fare delle cose oppure subiscono delle cose io mi medesimo molto perché ci rivedo i miei figli cioè è vero che c'è questo rapporto sì 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 assolutamente sembra come che esatto sembra come se ci sia una luce che loro riescono a vedere e che invece quando superi una certa età fai molta molta più fatica a vederla e infatti come dire la cosa più difficile che un genitore secondo me deve fare che io mi sento come dire la responsabilità è quella di preservare cioè fare in modo che quella luce gli resti il più forte possibile e più a lungo possibile certo sono totalmente d'accordo poi diventano degli esseri umani di merda se no poi diventano Will Smith diventano Will Smith e non chiedono nemmeno scusa e non chiedono nemmeno scusa ma Will Smith dannato a proposito di Harry Potter a proposito la prossima puntata che gancio che gancio che gancio la prossima puntata andremo a Hogwarts e partiremo da Newt Scamander Albus Silente come si chiama Puzzone Grindelwald e arriveremo a Harry Potter quindi Harry Potter è alla rolling perché visto che ho detto cose scomode oggi ho detto cose problematiche preparatevi perché tra due settimane dirò cose altrettanto scomode e problematiche perché oramai la figura della rolling è completamente circondata da un alone di facciamola fuori questo è il senso e per quanto io sia concorde con il dire che a volte la rolling se ne è uscita con delle dichiarazioni molto discutibili si torna sempre al punto non si può mescolare l'arte con la persona non puoi dire ah vabbè allora io non leggo più Harry Potter perché lei è una scema queste cose fanno ridere punto io vabbè poi ne parleremo la prossima puntata però c'è una puntata di Morgana che è un podcast di Michela Morge e Chiara Tagliaferri in cui raccontano come dire delle donne che hanno fatto la storia che hanno cambiato le regole e la rolling ha fatto la storia e loro fanno una puntata dicendo sì ok questa dice delle cose anche completamente fuori di melone che non condividerei mai nella mia vita poi però non vedo l'ora di buttarmi dentro Harry Potter e fanno un lavoro secondo me interessante c'è un punto è dire questa autrice questa persona dice delle cose orribili per cui non la voglio leggere dice no la voglio proprio leggere per capire bene dove stanno cioè secondo me questi personaggi indiscutibili sono quelli che andrebbero studiati di più proprio per far evolvere il pensiero ma poi posso dirti un'altra cosa assurda in realtà se uno va a leggere i libri della rolling e io li ho letti praticamente tutti si scorge anche una sorta di controsenso perché un controsenso nella rolling stessa perché quello che lei scrive nei libri è molto diverso da quello che lei dice a mezzi stampa o attraverso i social quindi questo per far capire che le sfaccettature le ombre degli esseri umani degli uomini e delle donne sono molto più complesse queste ombre delle parole che vengono dette perché veramente se uno legge se uno legge la rolling forse la rolling è una delle scrittrici più inclusive di tutti i tempi poi la vai a sentire parlare e non è così quindi è un po' un controsenso vivente probabilmente quindi di queste cose e poi dei film di Harry Potter e degli animali fantastici parleremo alla prossima puntata nel frattempo Emanuele Rauco e Riccardo Giannaccone vi salutano vi vogliono bene vi vogliamo bene un'ora e venticinque record senza se parlavamo di musical è colpa è colpa di Will Smith comunque ci deve chiedere scusa anche a noi se vi piace questo podcast supportatelo condividendolo votandolo commentandolo e offrendoci un caffè virtuale su Buy Me A Coffee se vi piacciono i nostri video youtube cioè vi piace anche vederci sul faccione col faccione supportateci con il mi piace con l'iscrizione al canale e anche lì abbonandovi al canale perché poi io e Riccardo vi vogliamo ancora più bene diciamo c'è stato anche il citofono in questa puntata esatto c'è stato anche il citofono quindi se volete più citofoni abbonatevi abbonatevi sottoscrivete un abbraccio a tutti e buona abbraccio e buona vita ciao ciao ciao